Allora, buonasera, buonasera a tutti! Grazie, grazie mille! Ciao! Grazie! Grazie! Che simpatiche! Vogliono partecipare al condurso del villaggio. Beh, comunque non è colpa loro se sono così insignificanti. E mi dispiace, però le bad girls sono le migliori. I want your ugly, I want your disease, I want your everything as long as I'm free, I want your love, I want your love. I want your revenge, I want me if you're not a fairer man. I want your love and all your love is revenge, I want me if you're not a fairer man. Oh, come in a fairer man. Oh, come in a fairer man. Forza, forza, vediamo il nostro piano. Voglio proprio vedere come fanno a provare con le sfigate. Grazie! 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 Guardate mi la scena. 5, 6, 7, 8. No, per oggi basta, non ho un'idea. Aspetterò di vedere cosa fanno con le dv e copierò i miei domini. Ciao Federica, come vanno le vostre prove? Benissimo, e le vostre? Benissimo! Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti a tutti! Prego, tra poco daremo inizio alla gara, la gara più attesa di tutto l'anno Andiamo qui presente una giuria, una giuria di grandissimi esperti Esperti televisivi, esperti di giornalismo, esperti radiofonici E poi, dietro le quinte, le squadre sono già pronte e scalpitanti per svirsi Quindi io direi, lasciamogli il posto loro Facciamo cominciare la prima squadra, la squadra del gruppo La squadra del gruppo Un grandissimo applauso al gruppo Volete vedere il prossimo gruppo? Sì! E lasciamo il parco libero per la prossima esimensione del gruppo delle Bad Girls Grazie! Grazie! Ecco, signori e signori, queste sono le due esibizioni delle due squadre Il gruppo Glee E il gruppo delle Bad Girls È stata una lotta dura e difficile Dove sarete solamente voi a giudicare chi vincerà questo concorso? Benissimo, allora cominciamo dal leader delle Bad Girls Federica! Buonasera, buonasera a tutti Beh, voi ci conoscete già, ci amate ovviamente Sappiamo che questa sera voi valuterete soprattutto la bellezza, lo stile e la bravura Quindi, beh, votateci, votateci, votateci! E ora la capogruppo del gruppo Glee, Giulia! Questa è una competizione, vincerà il migliore Anche se mi piacerebbe molto vincere Però io voglio bene a tutti E so che anche voi ce ne volete Quindi, che vinca il migliore Domina per bellezza Fascino Carisma Bravura E che più ne ha più ne metta? Il gruppo Delle Bad Girls! Grazie! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada